È venuto a trovarci quest'oggi nei nostri studi il presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata, Enzo Fusari. Con lui continuiamo ad occuparci della fase post-terremoto, perché gli architetti delle Marche si sono ancora messi a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno come professionisti per aiutarli. È stato sottoscritto infatti, proprio alcuni giorni fa, un specifico protocollo di intesa. Di cosa si tratta? Dunque sì, gli architetti delle Marche, in particolar modo della nostra provincia di Macerata, hanno già aderito 200 colleghi che volontariamente sono messi a disposizione dell'ufficio delle ricostruzioni per attivare i sopralluoghi per ridigere schede faste. Che sono le schede indispensabili per il passo successivo, cioè per la redazione da parte dei tecnici delle schede AIDES e quindi per avere poi un contributo per la ricostruzione. Dall'ottobre scorso sono passati ormai diversi mesi. Quanti sono gli interventi che vi sono stati richiesti? Dunque, interventi molti. Noi, complessivamente in tutto il cratere, 200 mila richieste sono state fatte dai privati e ne mancano ancora circa 60 mila. La vostra professionalità ancora una volta al servizio dei cittadini? Sì, è il nostro territorio, per cui è doveroso che tutti i colleghi si mettano a disposizione per i cittadini per alleviare questo momento difficile, in più per venirne fuori perché la ricostruzione non partirà finché non verranno effettuati tutti quanti i sopralluoghi. Per cui ci siamo attivati, d'accordo anche con gli altri tecnici, ingegneri, geometri, affinché si finisca il prima possibile i sopralluoghi per la redazione delle faste. Parlando proprio di questo, nell'ultimo decreto emanato dal governo, cosa manca? Non siete direttamente coinvolti voi architetti? Sì, lei ha colto nel segno. Errani è stato bravo, è stato bravo nel senso che non si capisce il motivo e questo glielo chiederemo ora nel prossimo incontro del 17 febbraio, come mai i tecnici locali, soprattutto gli architetti, non sono stati coinvolti nella ricostruzione tipo delle scuole, tra cui Tolentino che coinvolta direttamente perché oramai le scuole non hanno più senso, la loro ubicazione in un centro storico dove non garantisce più la sicurezza come via di fuga. Pertanto penso che anche Tolentino, me lo auguro, avrà un nuovo istituto superiore, nuovo, anche perché oggi le scuole, specialmente le superiori, hanno bisogno di altri spazi. Parlo di palestre, parlo di lavoratori, parlo di auditorium, parlo di parcheggi, quindi oramai in centro storico non ha più senso una scuola, insomma questo è un fatto un po' troppo ormai romantico.